Continuiamo a parlare di sport perché l'Olimpia ha fatto questa grande partita contro il Real Madrid che ha portato a casa il risultato in Eurolega, ma non è l'unica milanese che ha portato a casa un risultato buono contro il Real Madrid. Giusto Sergio Meazzi? Buongiorno a tutti, mi vorrei giustissimo, giustissimo. Cosa è successo questa settimana nel mondo del calcio per le milanesi? Beh, per il Milan direi che per tutta la settimana c'è stato un solo incredibile in questa città perché vincendo praticamente contro ogni pronostico contro la corazzata Real Madrid in casa del Real Madrid devo dire che solo il Milan riesce a fare queste imprese, non è la prima e anche Fonseca per la verità è entrato nei Guinness dei primati, quindi battere il Real Madrid in casa propria. Una partita giocata in maniera perfetta e credo anche meritata e insomma contro ogni pronostico è dire che è bene per il calcio italiano e bene per Milano. Ecco, anche l'Inter ha portato a casa un buon risultato sempre in Champions, giusto? Esattamente, l'Inter direi che è una squadra oramai, come ci siamo detti più volte, molto formata, già pronta per poter vincere. Mi sembra che quest'anno punti molto di più la Champions League che è il campionato e quindi ovviamente in Champions credo che riesca a dare le migliori performance. Ha vinto 1-0 contro l'Arsenal che è una formazione ovviamente di tutto rispetto. Ecco, e la solfa, come dici in questi casi, la sinfonia invece è cambiata però in campionato, giusto? Anzi, il Milan ha sofferto non poco, da quanto ho capito, nonostante poi un pareggio finale. Sì, il Milan è praticamente una formazione che ha cambiato l'allenatore, ha cambiato il modello di gioco, ha cambiato il modello di comportamento, ha cambiato il modello di mentalità. Riesce a fare delle cose splendide in Champions League e poi con i cali di tensione in campionato contro il Cagliari, che è una formazione sicuramente di tutto rispetto, perché il campionato italiano è molto difficile. Tutte le squadre creano difficoltà anche alle squadre di Betta, però tutto sommato il Milan deve queste partite cercare di vincere, se vuole almeno entrare nelle prime quattro della Champions. Questi cali di tensione io credo che Fonseca debba lavorare parecchio. mentre l'Inter gioca contro il Napoli. Come dicevo prima, è una squadra sicuramente che punta molto di più la Champions. Tutto sommato ieri sera non mi sembra, pur non essendo lucidissima, però ha cercato proprio di vincere la partita. Il Napoli invece ha cercato di pareggiarla. È una squadra che però ovviamente inizia a soffrire a un calo, dettato anche dall'età. E quindi ovviamente le performance non sono sempre splendide e non sempre, come lo scorso anno, riescono a vincere delle partite facilmente. Adesso i prossimi impegni quali sono e come vedi il futuro prima? Come si arriva a Natale con i milanesi? Dunque, a Natale intanto il Milan, domenica prossima la Juventus. Domenica prossima il Calcistica perché poi, come tu sai, c'è lo stop della Nazionale per la Conference League. Lo so benissimo, Sergio. Volevo vedere se lo sapevi anche tu. No, no, ma io so che tu lo sai. Ma io l'ho detto appunto per il dovere di Conaca, come si dice in questi momenti. Giusto, giusto, sai benissimo che io so tutto del calcio, quindi non ci mancherà. Lo so, lo so, ma assolutamente per quello ci mancherà. No, no, prego, prego, dicevi, scusa. No, dicevo appunto che la prossima tornata ci sarà Milano-Juventus, quindi un impegno importante per il Milan e tutte le altre ovviamente hanno degli impegni abbastanza gestibili. Come si arriva a Natale, per le milanese penso che l'Inter arrivi molto bene, credo che non abbia particolari problemi, sarà un testa-testa sulla punta della vetta della classifica. Per il Milan il discorso mi sembra discretamente diverso, è una squadra che dovrà in qualche maniera tecnicamente darsi una mossa perché non basta fare bene in Champions, bisogna fare bene assolutamente in campionato e quindi deve necessariamente avere la svolta. Rilevo che ci sarà probabilmente un turno di Coppa Italia, quindi le partite si sommano in continuazione e avere la rosa, diciamo, larga è importantissima in questa dimensione calcistica. Io lo so benissimo, ricordiamolo a chi magari è distratto in questo momento, in questo momento le due milanesi in che posizione sono in campionato? Allora, l'Inter è seconda, pari merito con un po' di squadre, il Milan è un pochino più staccato e praticamente a qualche punto, diciamo, dalla zona Champions League, devo ricordare, devo ramentare che però al Milan manca una partita quella sospesa col Bologna. Per cui ovviamente è un risultato che rimane. Non so se avete notato che non ci dice in che posizione però è precisamente. Dalla regia mi suggeriscono una settima posizione, giusto? Eh, l'avevo dimenticata, mi spiace. E avete capito da che parte del naviglio sta Sergio Meazzi, perfetto, va bene. Sergio, io ti ringrazio tantissimo, davvero. È stato un piacere. Puntuale come sempre, mi sa che ci risentriamo presto perché dopo il Milan Euro dobbiamo sentirci per forza, quindi non devi... Quando volete è un piacere per me, stare con voi. Spero di sentirti col sorriso, va bene, questo augurio è così. Come sempre, ma il sorriso nello sport è assolutamente... Bisogna sempre il tenerlo, quindi ci mancherebbe altro. Bel messaggio anche di speranza di Sergio Meazzi. Bene, grazie mille Sergio, buona giornata a te. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie ancora per tutto quello che stai con noi. Grazie. Insomma, questa mattinata sportiva così è stata importante. Tutti questi contatti con lo sport, adesso andiamo con un po' di musica e poi ritorniamo qui perché, ho detto, è San Martino e quindi andiamo alla sala di San Martino, dove? A Mendrisio, andiamo al di là del confine, in Ticino, nel Mendrisiotto perché è San Martino e là si festeggia. Ma come se si festeggia? A fra poco.